Sì, introduco, allora, prima di passare appunto al discorso Roma dell'Africa, un'Africa e questa amica Katia ha scritto per l'occasione una poesia, anche lei è una poetessa, e viene accompagnato da Gaspare, che sono uno strumento molto particolare, uno strumento recente degli anni di vita, che si chiama, magari lui dirà qualche parola su questo strumento, ma è stato questo strumento, Gaspare è una fede e Katia. Grazie. 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 Una, ad una, ad una, piccole gocce cadono sulle foglie, sui gatti, sugli uomini e sui denti, ecco, toccano terra, e non le vedi più. Acqua, sei di terra e sei di cielo, in pietosa cascata, timido l'uscello, pieto largo e infinito mare, ti fai per noi salata e dolce, ti fai complice, ti contagia, ti fai sollievo, l'espiranza, a volte improvvisa, ti fai limita, acqua, forza e dolcezza, cambiamento e l'eternità, sei la vita che scorre. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.